Abbiamo tra le mani la nuova Alfa 35, anche se l'impostazione è quella di una Reflex, è sbagliato chiamarla Reflex. È una macchina con tecnologia SLT, traslucid mirror, che permette di utilizzare allo stesso tempo un sensore autofocus e la tecnologia delle mirrorless, con mirino quindi elettronico, con copertura del 100%. La nuova macchina è l'herde della Alfa 33 presentata lo scorso anno da Sony e le novità non riguardano il corpo macchina, che è praticamente lo stesso, ma sono tutte all'interno. Tra questa il nuovo sensore Exmor CMOS da 16.2 megapixel, che possiamo immaginare in questa ripresa, è esattamente sotto lo specchio traslucido, e il processore Beyond, che permette sia la ripresa a 1080 con autofocus continuo, sia una velocità di scatto di 7 fps, che è una velocità notevole per una fotocamera di questa fascia, che è una fascia di prezzo bassa comunque, anche se il prezzo non è ancora stato annunciato, e permette anche un notevole risparmio energetico, perché grazie al nuovo processore si riescono a fare circa 400 scatti. La macchina è completa, ha tutte le caratteristiche offerte dalle altre fotocamere Sony, quindi SWIFT Panorama, SWIFT Panorama e tutte le riprese, inclusa una nuova Auto Plus, che automaticamente sceglie la modalità giusta di utilizzare in ogni situazione, offrendo comunque anche al fotografo la possibilità di intervenire e applicare delle correzioni. Ecco gli effetti immagini di cui parlavamo, c'è un effetto monocromatico ad alto contrasto, che realizza dei ritratti davvero molto belli, e ci sono delle modalità a colore parziale, che lasciano l'immagine in bianco e nero, ma permettono di tenere un colore, o il giallo, o il rosso, o il verde, o il blu, per fare delle foto che sono davvero interessanti, ma che per essere realizzate con Photoshop richiederebbero davvero tantissimo tempo.